Dopo settimane di attesa e di battaglia a colpi di comunicati stampa e approfondimenti, il Ministro propone la sua soluzione, quella che porterà al Consiglio dei Ministri, un taglio ai PSR per 92 milioni che però sostituirà con altre risorse. Qualcuno si chiederà dove sta il problema. Il problema che ha causato questo enorme ritardo è proprio il fatto che si intacca l'impostazione della PAC che l'Europa raccomanda rimanga uguale al netto di intese. L'intesa non c'è stata. Se il Ministro ha trovato delle risorse aggiuntive per l'agricoltura come sostiene, bene, le distribuisca a tutte le regioni che hanno avuto difficoltà durante la pandemia. Ma non tocchi l'impostazione. Faccio un appello a tutti i partiti, dalla Lega al Partito Democratico, chiamino i loro referenti e blocchino questo scempio che oserei definire di nuovo scippo all'agricoltura.